La prima cittadina di Battivaglia, la sindaca Cecilia Francese, rende noto che per il 2018 i cittadini aventi diritto al beneficio del pacco alimentare possono ritirarlo come da seguente al calendario. Martedì 9 ottobre, lettere AL, dalle ore 18 alle ore 20. Mercoledì 10 ottobre, MZ, dalle ore 18 alle ore 20. La consegna dei pacchi verrà presso la sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile, ubicata in via Gonzaga. Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo presentando un documento di riconoscimento in corso di validità. Il mancato ritiro del pacco alimentare da parte del beneficiario per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta l'immediata decadenza del beneficio e lo scorrimento della graduatoria.